eccoci nel laboratorio della casa greening glam allora io e marina oggi siamo qua per darvi qualche consiglio su come allestire l'albero di natale partendo anche con le palline un po rovinate un riciclo dell'anno scorso perché si possono coprire giusto marina utilizzare poi il nostro nastro greening glam vai io cosa ho fatto preso due pezzetti di nastro gli ho applicato un taglio in modo tale da fare un piccolo buchino poi andando a riciclare quello che è un ferma reggiseno noi possiamo bloccare il nastro facendolo passare nei buchi che abbiamo tagliato e poi possiamo passarlo sulla pallina rovinata e in questo modo chiudendo il bottoncino noi possiamo prendere un cordoncino farlo passare nel foro della pallina e applicarlo all'albero di natale direi un'idea molto semplice ma di grande effetto che tutti voi a caso potete fare buon natale grazie a tutti grazie a tutti